Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Sud, proverando da Bologna per traffico intenso. Ci spostiamo sulla Firenze Mare per traffico verso Firenze, rallentamenti e code tra Prato Ovest e BV111 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Arriviamo in Fipili dove troviamo code a tratti per traffico tra la Strassigna e Firenze Scandicci ancora una volta verso il capoluogo. A Firenze rallentamenti sui viali di circonvallazione. Nell'ambito dei cantieri tramvia, per interventi di protezione dei binari, segnaliamo anche oggi in orario 9.17 restringimento di carreggiata in via Paganini in corrispondenza dell'incrocio. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!